ciao ragazze bentornate in questo video vi presenteremo la nuova lampada base led all in firmata beauty space nates innanzitutto ragazze vi devo dire che è una lampada fantastica è una lampada che polimerizza tutti i semi permanenti e tutte le tipologie di gel vi arriverà in questa elegante scatola completa dello spinotto che va nella corrente e nell'istruzione d'uso in varie lingue sia inglese tedesco che italiano diciamo che le caratteristiche principali sono tre uno è il design 2 è la potenza 3 è la velocità vediamo insieme il design si tratta di un design sicuramente accattivante è un elegante campana con una forma affusolata ed ha un ampio vano in cui mettere la mano guardate la particolarità è che questa lampada può essere pulita facilmente staccando la base grazie a dei gancetti in il conno dei magneti e poi facilmente può essere richiusa ecco qua la potenza questa lampada è una lampada che monta ben 48 watt con una lunghezza d'onda che va dai 365 ai 405 nanometri in sé 24 diodi che ve li faccio vedere stacco un attimino la lampada così ve li mostro monta 24 diodi dicevo e sono disposti in modo uniforme su tutta la forma della della lampada in particolare noterete che ci sono dei diodi anche vicino i pollici quindi i pollici non saranno più sacrificati durante la fase della polimerizzazione per quanto riguarda la velocità i tempi di asciugatura sono notevolmente dimezzati questo grazie alla potenza della lampada quindi 48 watt alla lunghezza d'onda che ricordiamo è di 365 405 nanometri dalla distanza puntale cioè dire la distanza dei diodi con la base e dall'intensità costante della luce significa che la lampada genera un raggio di luce costante in modo uniforme senza dispersione di potenza il che si traduce in minori consumi da un punto di vista dell'energia elettrica andiamo a vedere ora le caratteristiche più salienti di questa lampada innanzitutto avrete notato un grandissimo timer led posto sopra la lampada la metto più a favore poi abbiamo i tasti on off e 99 secondi che sarebbe il tasto soft poi abbiamo i 10 secondi 30 secondi e 60 abbiamo il sensore di movimento quindi inserendo la mano si accende da sola e il timer partirà da 0 e arriverà a 120 secondi uscendo la mano si interromperà premendo invece i tasti 10, 30 e 60 secondi si attiverà il timer con un countdown decrescente quindi partirà nel nostro caso da 10 e arriverà a 0 e poi si spegne da sola la particolarità di questa lampada è la funzione low heat mode cioè dire la funzione soft è particolarissima perché questa è l'unica lampada su cui viene montato una modalità soft in progressione cosa significa? significa che premendo il tasto on off con una leggera pressione attiveremo un timer di 99 secondi ma la particolarità è che la luce al suo interno da 0 a 30 secondi sarà una luce ultra soft da 30 secondi a 50 secondi l'intensità della luce sarà più forte e di conseguenza anche l'intensità della potenza della lampada da 50 secondi ai 99 secondi l'intensità della luce arriva nella sua piena potenza e quindi nella sua massima funzionalità la durata di questa lampada è stimata attorno ai 50.000 ore quindi ragazzi questa è una lampada che racchiude in sé alta tecnologia di qualità tedesca infatti noi ragazzi vediamo un prodotto direttamente fabbricato da un'azienda tedesca e quindi sicuramente un'ottima manifattura vi diamo la possibilità di avere l'assistenza continua su queste lampade basta appunto contattarci è davvero fantastica mi sembra di avere detto tutto se avete delle domande potete scrivere sotto nell'info box e per questo è tutto ragazzi un bacione grazie grazie